Ciao, mi chiamo Tommaso, ho 23 anni, sono di Aosta. Il mio percorso di studio è un po' diverso da quell'ordinario, però adesso sto effettivamente facendo medicina a Milano. Appena sono stato ammesso dalla facoltà avevo necessità di trovare un alloggio, comunque una sistemazione qui a Milano. Dopo che ho fatto la richiesta al team di dove vivo mi ho subito contattato dicendomi quando l'appartamento fosse stato disponibile e nel giro di poco sono riuscito a trasferirmi nell'appartamento. Era tutto molto semplice, nel caso ho subito fatto la domanda, è stato davvero immediato, l'appartamento che ho scelto era in una posizione ottimale, è vero magari sono un po' più spostato fuori da Milano, però sono comunque vicino alla mia università e ho la metro a 5 minuti a piedi. Sicuramente avere dei conquilini porta tanto, sia dal punto di vista di compagnia, condivisione appunto degli spazi, quindi poi la situazione che ti permette di vivere dove vivo, una situazione comunque in cui c'è sempre un ricambio di conquilini, magari vedi sempre nuova gente, conosci nuove persone. E comunque è una cosa bella perché vai a conoscere magari i modi di vivere, la cultura. Un'altra cosa molto utile di dove vivo è l'applicazione con la quale posso veramente gestire un po' le cose di cui bisogna nell'appartamento, quindi quando c'è bisogno di manutenzione io tramite l'applicazione posso richiederla. Un'altra cosa molto bella è il fatto di poter pagare direttamente con l'applicazione. Se hai bisogno di parlare con il team di dove vivo, non c'è bisogno di inviare mail o di chiamare, ma c'è la reception virtuale sulla quale puoi cliccare attraverso l'applicazione e contattarli direttamente. Quindi consiglierei veramente a tutti coloro che vogliono uscire di casa e studiare o lavorare un'esperienza del genere. Ciao alla community di dove vivo e spero di farne parte ancora per molto tempo. Grazie. Grazie a tutti.